E ritorniamo nelle serie di Ice Cream per scoprire nuovi segreti in arrivo su Ice Cream 7 Oggi infatti vedremo delle nuove immagini per quanto riguarda il settimo capitolo Perché arriverà molto presto Infatti vi ricordate A12 Il creatore del fan made di Ice Cream 4 e di Granny 4 A quanto pare sta lavorando al fan made di Ice Cream 7 Sarà fatto veramente molto molto bene Quindi devo scoprire tutto quanto insieme Ma come sempre c'è di questo tantissimi like Lasciate più like possibili per supportare la serie E se vi piacciono questi tipi di video Questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale Attivate la camparellina Ma adesso devi partire Cominciamo per prima cosa Andiamo a scoprire insieme cosa potremmo trovare nel settimo capitolo Perché comunque il settimo capitolo è il sequel del sesto Nel sesto capitolo cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente risolto degli enigmi Abbiamo avvelenato il gelato di meti Per poter raggiungere il tubo segreto Che si trova qua dentro Il tubo che ci porta all'interno della sala di controllo Infatti dobbiamo praticamente riunire tutti quanti gli amici Per poter sconfiggere definitivamente Rod il gelataio Però ci sono ancora molti posti segreti della fabbrica Che noi non abbiamo ancora esplorato Ad esempio nel quinto capitolo Abbiamo scoperto la centrale idroelettrica E la discarica segreta del gelataio Nel sesto capitolo scopriamo La cucina di meti E altre zone particolari Come ad esempio Ciao randino caro Come stai caro gelataio Come stai? Scuso Mettiamolo fuori uso Sìèèèèè Dicevo qui nel sesto capitolo abbiamo scoperto La cucina Ma anche l'ufficio segreto di Joseph Sullivan Un ufficio dove ci sono tante cose segrete Tante cose particolari Dentro l'ufficio infatti troviamo ad esempio Delle parti di giornale Che noi possiamo comporre Per sbloccare un filmato segreto e scoprire definitivamente chi ha eliminato il padre di Rod Infatti qui nel sesto capitolo abbiamo scoperto chi ha eliminato Joseph Sullivan Ed è stato appunto Sister Filippa sotto ordine di Sister Madeline Ma ci sono ancora tanti segreti da scoprire, tanti posti, tante zone Innanzitutto dobbiamo scoprire che cosa c'è qui sopra Qui c'è tipo una parte segreta, cosa ci sarà mai lì sopra Che cosa nasconde Rod nei piedi superiori Ma poi si parla ad esempio dell'esistenza di una stanza dedicata ai dolci Infatti qui praticamente vediamo tipo dei dolci sparsi per la... ad esempio per la cucina Qui abbiamo un uovo di Pasqua messo di là Ma poi se andiamo qua avanti, veloce 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 Andiamo andiamo andiamo, apri qui la porta, entriamo qua dentro Vi faccio vedere un altro indizio che riguarda appunto la stanza dei dolci Andiamo di qua, perfetto, prendiamoci qua l'electro gun E già che ci siamo qui, vi parlo pure della stanza segreta Infatti qui dobbiamo ancora scoprire come è fatta la stanza di estrazione E quella la scopriremo nei prossimi capitoli Non vedo l'ora di aprirla per vedere che cosa è nascosto qua dentro Non vedo l'ora Adesso però scendiamo di corsa, di corsa, di corsa Ok, mettiamo fuori uso il mini Rod E vi faccio vedere adesso qua L'ultimo indizio che ci fa capire praticamente che qua Abbiamo l'esistenza di una stanza di dolci O comunque di una zona dedicata alla fabbricazione dei dolci Metto soltanto fuori uso quel mini Rod Perfetto Come possiamo leggere qua? Sotto un sottile strato di caramello croccante Si trova la gomma più appiccicosa della storia Questo fa capire che all'interno di questa fabbrica Non vengono fatti solo gelate Ma anche dei dolci, delle caramelle Delle gomme appiccicose Ma com'è fatto questo posto? Adesso tenetevi pronti perché vi farò vedere Le immagini di Ice Crew in 7 Fan made e vi darò pure la data di uscita Di quando potremmo giocarci Si perché potremmo giocarci molto molto presto E preparatevi perché ci farò anche una serie Nonostante magari parliamo di un fan made Vi dico già che sento che ho fatto molto bene Si ci può fare una serie Ma adesso però nel frattempo devo trovare qua Qualcosina ad esempio i mini Rod Mini Rod dove siete? Dove sono finiti i mini Rod? Ma che fine hanno fatto? Per una volta che mi servono i mini Rod non li trovo Per una volta No no seriamente dove sono i mini Rod? Ma mi sono spariti Ho perso i mini Rod non ci sono più Ma che roba Mini Roddini Ma che fine avete fatto? Dove siete finiti? Su apri qua la porta Qui c'è un mini Rod Qui da queste parti No niente ho perso Eccolo qua l'ho trovato l'ho trovato Con tanto di faccia di Joe del Sullivan Tenetevi pronti perché Qui su Screen 6 noi abbiamo scoperto Chi ha eliminato Joe del Sullivan Ma nel settimo capitolo Scopriremo il perché si è stato eliminato Scopriremo il vero motivo E adesso preparatevi Perché passeremo alle immagini di Screen 7 Ne ho preso un bel po' Fidatevi sono tante immagini Da analizzare insieme Da scoprire che cosa sono nascosto E tenetevi pronti perché vedremo anche delle nuove zone Come ad esempio la parte della fabbricazione dei dolci Nuovi corridoi Nuove stanze E vedremo anche un'immagine della stanza segreta Perfetto Questa praticamente è la schermata di inizio Ice Screen 7 Con il gelato che va lì a mangiare Questa è un'immagine quindi Non è animata Però possiamo notare che il menu a quanto pare rimarrà uguale Cioè non proprio uguale Però molto molto simile Andando avanti Qui possiamo notare l'inizio del gioco Questo gioco praticamente riprende quel trailer di Ice Screen 7 Che abbiamo visto un po' di tempo fa Non so se voi vi ricordate Ma abbiamo visto un trailer dove Liz è stata rapita da Rod Ed è stata ingabbiata all'interno della stanza di estrazione E dunque Mike ha deciso di prendere il tubo Che aveva preso Liz Per andarla a salvare Quindi all'interno di questo gioco Sarà Mike il personaggio Sarà lui che andremo a guidare L'avventura di Mike All'interno delle zone ancora più segrete Della fabbrica di Rod Questo è il punto di inizio Qui è da dove comincia tutto quanto Dove cominciamo proprio la partita E qui possiamo notare un'immagine Guardate questa Questa praticamente dovrebbe essere una zona Dedicata alle caramelle Perché ci sono pure tante caramelle a terra Guardate qua quante ce ne sono Forse qua vengono fabbricate Forse qui dove Rod Fabrica le caramelle della fabbrica Infatti qua possiamo notare un bacchinario particolare Un bacchinario di un colore anche particolare Riconoscete bene quello Quel rosa lì Ma a quanto pare Questo rosa si trova un po' ovunque All'interno della fabbrica di Rod O almeno All'interno comunque delle parti segrete Come ad esempio Nel gelato segreto Anche ad esempio La stanza segreta Quando noi l'apriamo Quando potevamo vederla aperta Per un attimo Vediamo tipo un fiumo rosa Che esce fuori Quindi questo rosa Viene un po' ripetuto ovunque Come se Questo colore Fosse collegato Con l'ingrediente segreto Del gelataio Ma devo sempre avanti qua con le immagini Perché veramente Ne ho prese tantissime Sono tantissime dunque E' meglio che mi do pure una mossa Altrimenti qua Rischiamo di non vederle tutte Qui vi faccio vedere proprio Delle caramelle Che sono a terra Ci sono veramente un sacco di caramelle Qui nel pavimento Cioè guardate qua Sono tutte caramelle queste Tutte quante caramelle Ma Rod Ma quante caramelle volevi fare Ma per soprattutto Ma perché le buttate a terra Perché le buttate Ma che spreco di caramelle è questo Ma no E qua possiamo notare un corridoio Siamo all'interno del corridoio Cioè comunque guardate bene anche quella grafica La grafica è molto simile Proprio al gioco originale di Ice Cream Proprio come vi dicevo Questo uomo è un fan made Fatto così bene Che si potrebbe paragonare Ad un gioco vero e proprio Si ci può fare una vera e propria serie Non è come gli altri fan made Che vi ho portato in passato Questo è veramente fatto bene Completo Con tutte quante le varie cose Con la grafica anche curata perfettamente Qui ci sono varie zone Cioè vari oggetti del corridoio Andiamo avanti Ma dobbiamo aprire una porta segreta Abbiamo bisogno praticamente di una tessera Qui abbiamo un card reader Che richiede appunto una tessera da mettere Per poter aprire quella porta segreta Ma dove sarà mai quella tessera Andiamo avanti Vediamo qui intorno Qui possiamo notare un'immagine Che raffigura Un'altra zona segreta della fabbrica E siamo tipo non so In altri corridoi Con degli armadietti Con delle cose Non so che posto sia questo Forse è tipo una zona di uffici Riunione Non lo so Perché per qua Ci sono queste scrivanie In questo modo Come se bisognava fare Chissà quale riunione All'interno di questa parte Non lo so Non ne ho idea Però a quanto pare Se ci sono tutte queste scrivanie enorme Venivano non so Chissà quelli dirigenti Per poter parlare Della fabbrica Cioè questa è una fabbrica importante Un'azienda Quindi vuol dire Che c'erano pure tante persone A lavorarci No in realtà sappiamo che Joseph Sullivan Ha licenziato tutti quanti i dipendenti Perché li ha sostituiti Con i mini rod Eschi mini rod Però che Noto che non compaiono All'interno di questo fanmade Non compaiono E meno male Finalmente Un ice cream Senza mini rod Non ce la facevo più Di beccarmeli ogni volta Di tra ogni singolo angolo Comunque Comunque Posso notare che Gli armadietti Sono anche gli stessi Che troviamo su ice cream Anche l'apertura è la stessa Il rumore Uguale E abbiamo trovato finalmente La tessera Carta sconosciuta Che carta sarà mai Vediamola adesso Zoomiamo qua Caramel corpse Qualcosa per entrare Tipo non lo so In una zona dedicata al caramello Nome sconosciuto Età sconosciuta Niente foto Vabbè dai Potevano metterci qualcosina qua Ma forse questo è un segreto Ma guardate qui davanti che abbiamo Guardate qua chi c'è C'è Rod Rod compare all'interno di questo fanmade Ma non è una cosa ferma Non rimane fermo No Verrà a darci la caccia Ci seguirà quando ci vede E ci prenderà Quindi noi dovremo fare attenzione a lui A non farci prenderci Guardate qua Ci sta proprio raggiungendo Si sta avvicinando verso noi E guardate lì dietro invece chi c'è Lei è Liz Lì c'è Liz Ingabbiata all'interno della gabbia Andiamo sempre avanti qua Rod è sempre che si avvicina verso di noi E qui siamo all'interno della stanza di estrazione Siamo nella stanza segreta Possiamo notare qui che c'è Liz Qui c'è una porta E qui ci sono degli strani contenitori Rosa sempre Quelli dovrebbero essere forse i macchinari per l'estrazione Forse è lì dove Rod va ad estrarre i chabbi Voi li va a spremere per bene Per ricavarne l'ingrediente segreto Molto molto strana Molto molto particolare Non vedo l'ora di poterci giocare Questo fanmade sarà disponibile molto presto Ok qui possiamo notare meglio tutto quanto Ci sono pure dei computer Dei computer particolari Forse dovremmo utilizzarli Andiamo avanti Qui ci sono pure delle scale Delle porte lì sopra Non lo so però se quelle porte andranno aperte oppure no Andiamo sempre avanti qui All'interno di questo Diciamo fanmade Ok finalmente abbiamo seminato Rod E finalmente possiamo inserire La tessera sconosciuta All'interno del lettore carta Per poter entrare lì dentro Per poter vedere la stanza del caramello Ah no più che stanza del caramello Abbiamo un altro corridoio Ma alla fine raggiungiamo qua Un contenitore Anzi una stanza Che contiene due contenitori Ed è lì che infatti dovremmo preparare Il caramello Ma perché mai dovremmo fare questo caramello? Perché? Perché dobbiamo preparare Un lecca lecca Da dare ad un'entità sconosciuta Che noi ancora non sappiamo Insomma comunque per fare questo lecca lecca Dobbiamo portare Tre sacchi di zucchero Che si trovano sparsi per il gioco Qui ad esempio ce n'è uno no? Che lo portiamo lì davanti Una volta che inseriamo I tre sacchi di zucchero Dobbiamo tirare una leva Attivare il meccanismo E questo meccanismo Inizia praticamente a creare Il caramello E con questo caramello Noi possiamo fare qua Il lecca lecca di Rod Il gelataio Ce l'abbiamo qui davanti Guardate qua Il lecca lecca di Roddino Ma non lo diamo a dare a lui Non sarà Rod Che mangerà questo lecca lecca Non farà neanche Charlie Quindi caro Charlie Mi spiace Sarà per un'altra volta Ma questo lecca lecca Dobbiamo portarlo qua Porta segreta Guardate C'è una porta segreta Cosa ci sarà mai lì dietro Una porta che noi in realtà Non possiamo aprire Ma sembra tipo Una sorta di prigione Cioè guardate qua Tutto quanto scuro Come se qualcuno Fosse rinchiuso là dentro E infatti andando avanti C'è una scritta che compare Noi non siamo soli qua Vuol dire che ci sono altre persone Nascoste lì dentro O sono aiutanti di Roddino O sono aiutanti di Roddino Oppure sono gente Che è stata rapita Questo disco E quindi questo disco E quindi questo disco Noi lo dobbiamo utilizzare All'interno di uno di quei computer Che abbiamo visto prima E leggiamo bene qua Vuoi realmente sbloccare tutte le gabbie E questo aprirà pure la porta Principale della stanza di distrazione Quindi vuol dire che Una volta che ne tocchiamo Yes Si aprirà sia la gabbia E sia la porta Per poter sfuggire Scappare via E infatti eccola qui Che abbiamo liberato Liz Ce l'abbiamo fatta O almeno qua Tramite le immagini Siamo riusciti a liberarla E quindi tutti quanti insieme Alle gramente Vanno nella stanza Di sicurezza Quindi qua abbiamo praticamente Un sistema di gioco Differente Rispetto da Screen 5 e 6 Non abbiamo il doppio personaggio Da utilizzare No Qui abbiamo direttamente Mike Che decide di salvare Direttamente Liz Questo fa meglio Tenetevi pronti Perché uscirà molto molto presto Uscirà il 4 aprile 2022 Fra pochissimi giorni No perché comunque Il giorno che uscirà sto video Sarà il 28 marzo E 3 aprile praticamente Dopo pochi giorni Quindi Tenetevi pronti Perché finalmente Proveremo Una versione in anteprima Di Ice Cream 7 Non vedo l'ora di provarla Qui con voi E quindi che dire Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se voi Non vedete l'ora di provare Questo nuovo fan Fatto veramente Molto molto bene Del settimo capitolo Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate Che ci vedete Iscrivete al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatene una E buon divertimento Noi ci vediamo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti